ah che cosa si sarebbe che sa di adesso lui? che schifo no? ma io mi schifo vaga, che sa di adesso lui? ma hai detto che hai visto Mattia? perché dice in autoquassum poi devo mandare a bar ha detto devo mandare a bar però me non ho visto che non ho visto per niente Mattia ma è venuto con me? ma è venuto in giro ma come no? perché lo fa fermi dal cuore no? fa... no perché come fa? tipo come fa? no perché non lo fanno a me come fa? ho senti? io mi ho un cane io non ho chiamato provalo a fare perico perico